8 puntate e una finalissima per eleggere la tribute band dell'anno Queen, Beatles, Pooh, Vasco Rossi e tanti altri tutti insieme sullo stesso palco rigorosamente dal vivo è incredibile? non a Discover Band il programma che rende possibili le sfide impossibili 8 tribute band 3 manche un solo vincitore una conduttrice una regina del rock and roll giudice implacabile e il televoto basta questo per decretare la tribute band dell'anno al mio segnale scatenate l'inferno la prima manche vedrà opporsi in quattro scontri diretti le tribute band dello stesso mito musicale la seconda manche è il sogno che si realizza è il momento dei duelli musicali impossibili come Queen contro Pooh Beatles contro Vasco Rossi sono due tribute band passeranno alla finale invito sul palco le due band finaliste i Queen Mania e i Vasco Real Tribute la sfida finale uno vince e uno perde come Queen contro Vasco Rossi a furor di popolo vincono i Vasco Real Tribute chi vince partecipa alla finalissima per eleggere la tribute band dell'anno riempiono i locali fanno rivivere le stesse emozioni dei miti della musica regalano gioia a chi li ascolta è il momento anche in Italia di conoscere le tribute band a chi li ascolta